Benvenendo ora Ecco qua, ciao Vetti, dove sono? Buongiorno Buongiorno Sette e mezza Sette e mezza, noi siamo svegli Noi perché io pure sono svegli Da quel calcio alle tre Alle tre sono le sette e mezza in piedi Perché il dovere ci chiama Il dovere è andare a mangiare, anzi a pistare come i porci Esatto Qui c'è Marco che è pure pronto Da noi non dorme più nessuno Vedete qua, qui non ha mai dormito nessuno Sì, infatti Qui non dorme nessuno Bene, e qua nemmeno Quindi si può dire che qua c'è massimo rigore e massima disciplina Perché? Perché noi adesso vogliamo Andare a fare colazione, andare a comprare l'acqua sul mercato che è vitale E poi vogliamo pure vincere il triangolare quello di mattina Esatto Perché ieri ce lo siamo, qua c'è Marco Buongiorno Buongiorno Invece, ecco, Marco ci può comunicare un dato statistico Allora, noi abbiamo sentito per telefono Una quindicina di ragazzi Allora, diciamo che i dormienti stanno Che percentuale c'è di dormienti? Diciamo del 89% La cosa è grave Da notare che alle 10 c'è il triangolare Sarà che noi saremo gli ucci a giocare il triangolare Faremo passaggetti e ci prenderemo la coppa Ah, in maniera abusiva Pure l'altro organizzatore sta dormendo Eh sì, vabbè pure lui Ma che serietà ragazzi, che serietà Vabbè ci vediamo più tardi Sì, vabbè ci vediamo più tardi